L'Associazione Italiana Donne Medico organizza al Castello di Favara un confegno sull'epilessia. Quest'anno l'Associazione Donne Medico organizza una giornata di aggiornamento sull'epilessia nella pratica del medico curante. È un argomento che è stato richiesto un po' dalla prova degli colleghi medici per saperne di più e per approfondire questo ambito. Verranno degli specialisti e dei professori da tutta la regione della Sicilia, dall'Università di Palermo, dal centro di ricerca INR di Troina e dall'Università di Catania a portare chiarimenti e novità sull'argomento epilessia. Voglio tenere presente un fatto che l'IDM quest'anno come associazione che è presente nella sezione di Agrigento dal 2003 e in Italia dal 1921 è un'associazione che promuove l'aggiornamento e la collaborazione delle donne medico nell'ambito sanitario. E oltre all'epilessia, l'argomento dell'epilessia è proprio il primo argomento. In futuro se ne sono preparati altri, nel mese di giugno avremo depressione e donna e nel autunno prossimo, a data da definire, avremo anche un altro convegno su ipertensione e comorbidità. I fattori di rischio dell'epilessia quali sono? L'epilessia non ha dei fattori di rischio veri e propri perché è una malattia che nasce con l'uomo ma è legata a delle patologie che insorgono nella persona, i tumori, gli eventi schemici, i quadri malformativi. Anticamente l'epilessia era vista come una patologia a sfondo quasi demoniaco. Intanto è vero che nella nostra storia molti pazienti demoniaci nel Vangelo venivano trattati, isolati e le manifestazioni epilettiche venivano considerate come delle manifestazioni demoniache. Nel Medioevo abbiamo avuto anche, che c'è stata anche, addirittura venivano bruciati vivi questi pazienti. Ora sappiamo che è una malattia curabile, che la ricerca ha portato avanti tutta una serie di farmaci che hanno una buona riuscita sul controllo delle crisi e quindi permettere a questi pazienti una buona vivibilità. Per quanto riguarda il nostro convegno si attenzionerà molto l'epilessia nel quadro della donna, nell'aspetto di maternità, quindi nel corso delle gravidanze, nel corso dell'allattamento. Questo è un argomento importante perché sono farmaci che vengono utilizzati in un momento delicato della donna in cui hanno un bambino in crembo. Quindi valutare anche gli effetti collaterali di questi farmaci e prevenire malformazioni su questi bambini e di queste madri affetti da pelessia che non possono fare a meno di assumere i farmaci. C'è un limite massimo di età a cui i soggetti possono andare incontro a una crisi epilettica? Le crisi epilettiche possono sorgere dalla zero giorno di vita a cento anni, nel senso che chiunque soggetto può andare incontro a manifestazioni epilettiche.